anno 2024 agevolazione industria 4.0 cosa cambia buongiorno a tutte le colleghe a tutti i colleghi ben ritrovati dunque un breve ripasso per quanto concerne l'agevolazione 4.0 per i nostri clienti imprenditori che hanno già effettuato investimenti o che si approcciano per la prima volta a doverli fare allora sgombro subito il campo da eventuali dubbi quindi nessuna novità è stata riscontrata nella legge di bilancio 2024 sul fronte degli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese per chi ha in programma investimenti volti alla trasformazione digitale 4.0 ritengo dunque essere fondamentale guardare al quadro delle regole e delle scadenze già in calendario il termine del 31 dicembre 2023 sarà fondamentale ai fini di definire il quadro delle agevolazioni spettanti per gli investimenti che saranno effettuati nel 2024 il credito d'imposta sui beni immateriali 4.0 inclusi nel legato b annesso alla legge 232 del 2016 sarà fruibile con una riduzione di 5 punti percentuali rispetto all'aliquota generativa applicata nell'anno scorso nel 2023 evito di rappresentare la solita tabella di percentuali e di massimali che ormai è già nota a tutti ricordo invece che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre annuali e in tre scusate in tre quote annuali di pari importo a decorre dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni il codice tributo da utilizzare sempre lo stesso il 6.937 per il credito d'imposta in beni immateriali 4.0 beni immateriali vediamo ora alcune considerazioni da dover tenere sempre in considerazione anche per il corrente anno la prima considerazione è mancato utilizzo del credito d'imposta cosa succede in caso di mancato utilizzo della quota annuale o di parte di essa l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali ed utilizzato già dall'anno successivo in aggiunta alla quota fruibile a partire dal medesimo anno seconda considerazione il durca dovrà essere sempre regolare la possibilità di fuire dell'agevolazione e subordinata rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori onde evitare qualsiasi problema inerente alla corretta contribuzione e buona norma la richiesta del documento unico di regolarità contributiva così da costituire prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma terza considerazione la formalità delle fatture e dei documenti di trasporto a livello documentale le fatture sia da conto che di saldo e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere appena di revoca dell'agevolazione l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili in merito alla presente formalità ricordo il chiarimento del mef nella risposta ad un question time della scorsa settimana in commissione finanze alla camera che supera in un'ottica di semplificazione le rigide regole indicate dalle entrate nella risposta 270 del 2022 confermando che l'obbligo in questione si intenderà comunque assolto anche in assenza di una tale dicitura riportata nel ddt qualora la fattura emessa da fornitore sulla quale è sempre notata la norma agevolativa richiami in modo univoco il documento di trasporto quarta considerazione obbligo di perizia i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui allegati a e b della legge 232 del 2016 e sono interconnesse al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura con riferimento al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. L'esclusione della perizia vediamo quando vi è l'esclusione per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro in luogo della perizia o dell'attestato di conformità è possibile produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante sensi del dpr 445 del 2000. Quinta considerazione cedere o trasferire il bene agevolato se l'impresa entro il 31 12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione quindi periodo di sorveglianza dovesse cedere a titolo oneroso il bene agevolato ovvero trasferirlo a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti alla stessa azienda il credito d'imposta deve essere corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. In questo caso il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato da soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano queste ipotesi senza applicazioni né di sanzioni né di interessi. Vediamo ora invece l'agevolazione per i beni strumentali. Anche qui nulla cambia per i beni strumentali materiali in quanto resta il credito d'imposta dal 20 al 5 per cento anche nel 2024. Infatti non è presente nessuna novità sul fronte dei beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati individuati dall'allegato A della legge 11 dicembre del 2016 la numero 232. Rientranti nell'ex ipramortamento ricordate? Resta quindi confermato il credito d'imposta dal 20 al 5 per cento del costo a seconda della quota di investimento utilizzata. Infine concludo il mio intervento ricordando che c'è ancora tempo per programmare gli investimenti volti alla trasformazione della produzione in ottica 4.0 e anche in tal caso è confermata la possibilità di ultimare le spese entro il 30 giugno 2026 nel rispetto dei due requisiti dell'accettazione dell'ordine e del versamento del 20 per cento di acconti entro la fine del 2025. Un caro saluto a tutti al prossimo video appuntamento. Ciao!